Con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e adescamento di minorenni, i giudici della prima sezione collegiale del Tribunale di Lecce hanno condannato a nove anni di reclusione un uomo di 49 anni, originario di Collepasso autista di uno scuolabus di una ditta privata in Salento. La sentenza è stata emessa dal giudice Fabrizio Malagnino, che ha riconosciuto anche un immediato risarcimento del danno di 50.000 euro ai genitori di uno dei ragazzi che si erano costituiti parte civile con l'avvocata Gabriella Mastrolia. La condanna inoltre supera la richiesta avanzata dal PM Luigi Mastroniani, che aveva invocato in sede di giudizio sei anni di reclusione. L'inchiesta è partita nel maggio 2022 in seguito alla denuncia presentata ai carabinieri dal padre di una delle presunte vittime, infastidito proprio dai messaggi ricevuti dal figlio. Con l'approfondimento delle indagini, gli investigatori avrebbero scoperto sei casi di molesti e abusi da parte dell'uomo su alcuni studenti tra i 14 e i 16 anni, che accompagnava ogni giorno in vari istituti scolastici della zona. Dal gennaio dello scorso anno, l'uomo è agli arresti domiciliari, essendo stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla GIP Laura Liguori. Ora il 49enne, difeso dall'avvocato Fabrizio Mangia, potrà valutare il ricorso in appello non appena saranno depositate le motivazioni.